Carissimi, benvenuti ad un'altra puntata di Q&A Espresso. Sono Angelo Bandizioso di EspressoTriplo.com e oggi parleremo di come vendere software per gli alberchi. Sì, lo so, è un topic un po' di nicchia, ma la strategia che metteremo insieme potrà essere applicata a qualsiasi tipo di business e a qualsiasi tipo di prodotto o servizio. Prenderemo un software di prenotazione e lo venderemo agli alberchi. Non stiamo parlando di prenotazioni online che facciamo noi quando andiamo in vacanza, ma un sistema gestionale per gli alberghi e le loro camere. In un mondo dove Google AdWords, SEO, Internet sono i padroni, noi utilizzeremo il vecchio stile. Si parla infatti di direct marketing. Andiamo al computer. Bene, eccoci pronti. Come ho detto in precedenza, parleremo di direct marketing e di come utilizzare questo canale per promuovere un prodotto. Ripeto, questa sarà una strategia che potrà essere tranquillamente utilizzata da chiunque. Però l'esempio è stato dato da un utente di Espresso Triplo. Che ha questo prodotto, vende praticamente un software gestionale per le prenotazioni degli alberghi. Quindi, iniziamo. Allora, il prodotto è un sistema che abbiamo detto di booking e il cliente è ovviamente un albergo. Parlando con Roberto, questo è il nome dell'utente, Ovviamente ho cercato di chiedergli qualche dettaglio in più. E qual era soprattutto il problema principale che ha davanti ogni volta che ha a che fare con questo tipo di clienti. E Roberto ha risposto. La cosa che frena è l'introduzione. Non so come fare di preciso, però poi vado solitamente spedito con tutte le caratteristiche e i benefici durante ovviamente il colloquio. Beh, questo è normale. Questo è il problema che hanno praticamente tutti. Sai quanti alberghi, ma non solo, quanti business, giornalmente vengono bombardati letteralmente da chiamate, email, lettere. E ovviamente lui è solo uno dei tanti che prova a vendere il sistema. E su questo non stiamo giudicando la qualità del sistema. Solo che all'inizio è uno dei tanti. Come fare quindi? Allora, ci ho pensato molto. Ci sono differenti modi di approcciare un cliente e soprattutto differenti canali. Ho pensato a Google AdWords, ho pensato ad una strategia con siti satellitari e quindi per sfruttare SEO, long tail keywords e quindi andare a prendere quel traffico targettizzato minimo con più siti, quindi siti satellite. Però alla fine, secondo me, la cosa migliore è andare a bussare alla porta. Telemarketing sinceramente non è una cosa che mi piace. Cold calling, chiami, vorrei parlare con... Io personalmente ne ricevo tantissime e ogni volta tiro giù il telefono perché lo script che usano è veramente disastroso. Allora, ho pensato al direct marketing, però approcciando il cliente in una maniera un po' più naturale. Tanto per creare quell'interesse nel prodotto. Allora, prima di questo però dobbiamo un attimo capire come funziona, quali sono gli step. Perché io dico sempre è come andare fuori la prima sera con una ragazza e chiedergli ma la dai? E quella è un pugno in faccia, te lo tira. Allora bisogna capire un attimo come passare dal ehi mi interessi al andiamo a prendere un caffè insieme, usciamo insieme. Magari trombiamo pure e poi matrimonio e là siamo finiti. Comunque, andiamo avanti. Ho chiesto a Roberto di darmi dei benefici per capire bene il prodotto. Io non lo conosco, però se si fanno delle domande accurate si possono capire quali sono i punti di forza in confronto al mercato e vederli e sfruttarli al meglio. E lui davanti a delle domande specifiche come per esempio perché dovrei comprare il tuo prodotto invece che quello del tuo concorrente ha risposto nel seguente modo. Il mio sistema è intuitivo ed economico rispetto a molte altre soluzioni. È compatibile con tutti i device, quindi chiunque ha un albergo può usarlo con un iPad, un iPhone, un desktop, qualsiasi cosa. L'interfaccia si adatta. È veloce da imparare, quindi il training immagino sia abbastanza rapido. E la gestione delle camere è fatta veramente in pochi clic, quindi questo è molto importante soprattutto se si sta al telefono con il rispettivo cliente che vuole avere una camera. Non solo, ci sono anche delle possibilità per fare dei coupon per lo sconto e il tutto è veramente in maniera veloce e rapida. Allora a quel punto ho detto bene, dimmi però i punti di forza. Dov'è che questo software è migliore degli altri, tecnicamente? E lui mi ha detto, ho già tanti clienti che usano il sistema e sono tutti contenti. I costi sono veramente competitivi, non solo per l'installazione ma anche per la gestione. E quindi se andiamo a prendere delle realtà dei piccoli alberghi che hanno iniziato da poco, questo è un costo che non grava moltissimo sulle spalle. E soprattutto abbiamo un'assistenza 24 ore su 24. E questo è importantissimo, infatti è molto più importante del prodotto, perché se il prodotto è buono, però nel momento in cui succede qualcosa e non c'è nessuno che ti aiuta, beh, questo è ancora più grave. Bene, abbiamo i benefici, abbiamo i punti di forza. Qual è però il punto di forza maggiore? Eccolo qua. Nel momento in cui mi ha detto ci sono già tanti clienti che lo usano, questo Eureka perché lo porta addirittura ad un punto, ad uno step superiore di tutta la concorrenza. Perché lì dove ci sono sistemi simili che devono convincerti, con le parole, sperando di convincerti, Roberto può convincere dando le reference, dando dei testimonial, registrando video, con i suoi clienti che parlano, con i fatti, di quanto sia buono il sistema. Ora, per arrivare alla conversione ci sono molti gradini e forse potrebbe essere interessante capire come arrivare da zero fino al gradino più alto. Come? Allora, mi sono permesso di disegnarvi una scala con i vari gradini. Non uno, non due, non tre, ma quattro, cinque, sei gradini. Questi gradini rappresentano la strada che deve fare l'utente per essere convertito. E quindi la strada che deve fare Roberto per convertire il suo cliente, ma anche e soprattutto per capire a che punto sta. Perché non è detto che tutti i potenziali clienti siano al gradino zero. Magari ce ne sono molti che stanno al penultimo gradino e vogliono solo sentire che cosa è da dire. Allora, il primo gradino è un non gradino, stanno a terra. Quindi la mentalità del cliente è che lui non ha nessun problema. Magari è un nonnetto con il piccolo albergo, un breakfast che prende le prenotazioni con un pezzo di carta e la penna. E quindi non lo sa. Qual è il problema? Nessuno. E allora come si fa a far scalare la persona da questo step a quello successivo? Portandolo al gradino del problema. Quindi dili, guarda che tu hai un problema. Ma non facendo brainwashing. Mettendo sul tavolo delle nozioni, dei punti validi per far capire perché hai un problema. Se io ti dicessi, non Nino, se tu prendi le prenotazioni oggi con un pezzo di carta e la penna, nel momento in cui arrivano dieci persone, e queste dieci persone in ventiquattro ore ogni volta cambiano la loro idea, o fai una pubblicità per spingere magari un po' di marketing, il tuo piccolo bed and breakfast, e ricevi troppe prenotazioni, come fai? A quel punto capisce che potrebbe essere un problema. Ora, per il problema io intendo non un problema generico. Bisogna fare ricerca, alzare il culo e capire qual è il problema principale che affligge gli hotel. Parlando con Roberto, uno dei problemi principali è la gestione dell'overbooking. Allora questo potrebbe essere un amo per andare a prendere l'attenzione dei clienti. Lo step successivo sono le soluzioni esistenti. Allora un cliente o potenziale cliente che sta a questo step sa dell'esistenza di soluzioni, sa che ha un problema e sa che vuole risolverlo, e quindi incomincia a girarsi intorno, a guardare un po' su internet, magari qualche rivista gli è arrivata, qualche lettera, ok? Dopodiché c'è la nostra soluzione. Il punto più interessante che le persone non conoscono, perché altrimenti ci avrebbero contattato, è che noi vogliamo far conoscere a loro. E questo è il punto più difficile, perché ricordiamoci di tutte quelle email, di quel bombardamento di servizi simili che riceve l'albergatore, la nostra è praticamente l'ennesima email che dà fastidio. Quindi bisogna portarlo a far vedere la nostra soluzione, come Google AdWords, SEO, siti, satelliti, social network, quello che ti pare. Però va messa sotto gli occhi. Una volta messa sotto gli occhi, che dici, ah, la sto leggendo, so che esisti, vanno fatti capire i benefici, i benefici che abbiamo visto prima, di cui abbiamo parlato, e quindi vanno messi sotto gli occhi della persona interessata, dell'albergatore, ok? Dopo i benefici bisogna convincere, non con la pistola alla tempia, è ovvio, però convincere con esempi, con una dimostrazione, e nel caso di Roberto, con dei testimonian, con delle review, quindi far vedere una pagina con tutte le persone, magari dando anche i contatti e dire, guarda, contattali, perché sono sicuro che ti diranno soltanto cose positive del mio sistema. Non credere a me, credi a loro. E poi c'è l'azione, e dire, guarda, se sei interessato e firmi oggi, magari c'è il primo mese di supporto gratuito, o una offerta che aiuti la persona ad essere convertita. E tutti questi gradini vanno fatti un passo alla volta. Non si può passare dal nessun problema all'azione, o dalle soluzioni esistenti all'azione, senza passare prima dal descrivere le varie cose. Anche qui è come una relazione tra due persone. Noi ci ricordiamo di tutti i passaggi, quando abbiamo a che fare con una donna, o con un uomo, per la par condicio, però ci dimentichiamo di questi passaggi, porca la miseria, quando abbiamo a che fare col business. Da zero vogliamo subito convertire. Invece no, bisogna passare da uno step all'altro, perché altrimenti sarebbe troppo per l'utente. Si sente messo al muro, all'angolo, e dire, no, io non compro niente. Quindi, arrivati ai benefici, bisogna convertire, arrivare quindi a dargli l'azione, fino a quando, cacin! Ok? Arrivati a questo punto, qual è il nostro cliente, dove si trova in questa scala? Allora, il primo approccio è ovvio che sarebbe quello più facile, tendere a prendere gli alberghi piccoli o quelli nuovi, che non hanno attualmente ancora nessun problema, o che sanno del problema e non sanno ancora la soluzione. Non si sgomita. Però, questa è la posizione che il più delle volte è la posizione dove si trovano i nostri clienti. Sanno di avere un problema, magari hanno già una soluzione, sanno di quelle esistenti e non vogliono cambiare. Ce l'hanno. Perché devo cambiare? Mi trovo tanto bene. O tanto meno, stanno già vagliando la loro decisione e quindi, tu chi sei? Mi fai perdere solo tempo. Come fare, quindi? Procedere un gradino alla volta, capire dov'è e portarlo fino su. Eh, dirai, eh sì, Angelo, parli bene tu, ma come si fa? Eh, un attimo, ci sto arrivando. Prendiamo la nostra scaletta e la mettiamo qua. Questa è la situazione dell'albergatore. Questo è il computer e queste sono tutte le email, e ve lo assicuro, che arrivano dall'albergatore. Arrivano a me con tre differenti attività, blog compreso, figure se non arrivano a lui. Quindi questo è lui con tutte le email che fa cancella, cancella, spam, spam e tutte le email sono uguali. Tutti a dire eh, acquista il mio sistema, eh, comprata a me, eh, buy here, perché ovviamente c'è anche quello estero, e c'è anche quello albergatore, guarda qui, e poi il classico che non manca mai, buy agra for your customer, che non è male. Alla fine, un albergatore magari, ehi, frate, ehi, tenesse nuvi agra per stasera, ehi, voglio, e poi, ci siete voi, o ci sei tu, caro amico di espressotriplo.com che dici, ah, mi scusi, ma ci sarei anch'io qua, però, nessuno ti nota, perché sei come una scureggia nell'universo, ci ho messo anche la freccia, vedi? Come fare quindi? Beh, è questo il problema, bisogna avere una strategia. Allora, queste sono le varie email che arrivano tutti i giorni all'albergatore, che è costantemente bombardato da servizi simile al tuo. E tu stai lì, davanti a loro, che magari con molta meno potenza, perché non hai un team di marketing, non hai persone che scrivono le email per te, e stai lì, dicendo però, gritando all'albergatore, oh, ma guarda che la mia soluzione, la mia lettera qui è differente. Ma come può essere differente? io non giudico il contenuto che sta dentro, ancora non lo so, però da fuori a me sembrano tutte gialle. Come fare quindi? Mettiamo caso che questa sia la tua lettera. Se fosse veramente qualcosa di differente, se fosse diversa, ok? Ah, allora qua cambia la situazione, cambia perché è differente dall'inizio, addirittura dal tipo di carta che si usa. Ah, allora come essere differente? Si potrebbe utilizzare una lumpy mail. Lumpy mail è un termine inglese, il lump è qualcosa, un bozzo, un bozzo che si può avere sulla pelle, un qualcosa di bozzoluto, quindi la lumpy mail non è la classica envelope, la classica busta bianca, piatta, è un qualcosa di bozzoluto. Questa è la lumpy mail. Ah, ci siamo? Vedo le facce, le vedo, ah, si parte dall'involucro, e allora la teoria che dice l'abito non fa il monaco è totalmente sbagliata. Ah, certo che è totalmente sbagliata, perché tu non lo conosci chi è che sta sotto quelle vesti, se per te quello è vestito da monaco, fino a quando non ci parli, è un monaco. Stessa cosa qui, se sono tutte uguali, dentro ci potrebbe essere anche la lettera di Obama, però tu non lo sai, soprattutto se poi dalla finestrella esce fuori a chi di dovere, io la strappo subito. In Inghilterra, per esempio, il direct marketing è usato molto, però non lo usano bene, non lo sfruttano. Infatti, anche senza vedere, si capisce bene quando una lettera arriva, ed è una lettera importante, e quando invece quella stessa busta è una busta per pubblicità. Erroneamente dicono la sezione marketing delle banche e dei supermercati, facciamo una busta lucida, perché tutte le altre sono rubide, e quindi attiriamo l'attenzione, però la busta lucida è usata da tutti e quindi a priori si sa che la busta lucida è per macchine, però usando un altro tipo di carta, un altro colore, chi l'ha detto che devono essere bianche? Ma non fermiamoci là al colore, ne parleremo del colore, parliamo della Lompimeo. Adesso abbiamo capito che la Lompimeo è qualcosa dove ci si può mettere qualcosa di più al di là della lettera, e quindi che ci mettiamo? Questo è il problema. ecco la strategia passo passo, prima cosa, per capire cosa metterci dentro bisogna capire quanto spendere, qual è il nostro budget, qual è il costo che ci si pone davanti quando vogliamo acquisire un nuovo customer, un nuovo cliente. Allora, questo va creato andando a calcolare Lifetime Value o LTV. Allora, questo è un argomento complicato, è un topic che sta anche su Wikipedia se qualcuno lo sa andare a vedere, però ne parleremo in un attimo. Intanto gli step della strategia, quindi Lifetime Value, calcolarlo, impostare un budget in base al Lifetime Value del cliente, poi che cosa minchia ci mettiamo nella Lompimeo, io lo so che sta aspettando, ma ci arriveremo. Passo passo, poi bisogna monitorare il processo, non è che qui partiamo, mettiamo qualcosa dentro e speriamo che qualcuno chiami, no, bisogna capire se funziona o meno, perché chiama, ha chiamato, non ha chiamato, perché no, l'ha aperta, poi tutte queste informazioni vanno sicuramente analizzate per migliorare il processo, per ottimizzarlo, perché? Perché io non ho la bacchetta magica, questa è una strategia su cui non ho dormito, però non è detto che funzioni e non è detto che funzioni la prima versione, allora prima di passare a qualcos'altro bisogna fare dei test e quindi questa è la strategia 1.0, poi la 1.1, 1.2, fino a quando si capisce se migliora o se è meglio andare ad usare un'altra strategia, è così che si usa il marketing. Una volta ottimizzato cosa si fa? Si ripete, si ripete, ripete, ripete. Ora, calcolare il lifetime value, ma cos'è questo lifetime value? Come abbiamo detto il topic è abbastanza complesso, però possiamo dire che il lifetime value non è altro che la previsione dell'utile netto dato dall'intera relazione futura con il cliente. In altre parole, un cliente, una volta acquisito, quanto può generarmi di profitto in tutta la sua vita? Si fa una media. Allora, se si parla di un barbiere, può darsi che è quei 20 euro al mese fino a quando non schiatta. Se invece è un e-commerce, può darsi che stiamo, che ne so, sui 100 euro, perché alla fine compra oggi, compra tra un mese, poi tra sette anni lo rivedo. Se parliamo di avvocati, quanto? Forse in tutta la loro vita 7.000 euro oppure 30.000 euro che sono abbastanza expensive? Non lo so, bisogna calcolarlo in base al tipo di business che abbiamo. Facciamo un esempio. Mi sono andato a vedere degli altri sistemi simili di booking che stanno più o meno sui 15 pound al mese nella versione standard. Ok, 15 pounds, 17 euro, non lo so, diciamo 15 euro al mese. Un anno di sistema se lo faranno almeno per sfruttare al massimo tutte le opzioni per vedere se funziona e se è adeguato al tipo di albergo e di business che hanno. Quindi ho pensato una media di 300 euro di lifetime value. Un customer che dopo un anno dice, beh, non mi serve più. Quindi proprio il caso peggiore. Ora, se da un utente io ho netti 300 euro solitamente di quei 300 euro che è il lifetime value lo sto mettendo proprio semplicemente io solitamente utilizzerei il 20% come investimento per acquisire un nuovo cliente. Quindi 60 euro di budget. Noi spendiamo 60 euro a cliente per acquistarne uno nuovo. Se andiamo al di sovra di questi 60 euro c'è qualcosa nella nostra campagna pubblicitaria che non funziona. quindi impostiamo un budget di 60 euro e a questo punto come lo utilizziamo? Ah, come lo utilizziamo? Cosa ci mettiamo in questa minchia di lumpy mail? Ne ho pensate di diverse sono anche andato a vedere siti vari fino a quando mi sono detto se il problema è l'overbooking allora bisogna spingere sul fatto che l'overbooking può far perdere soldi all'albergatore e qual è il logo lo stemma dei soldi salvati messi da parte? Il maiale! Allora sono andato su ebay e mi sono detto fammi trovare qualche maialino che può salvare un aglio ok? Ho deciso cosa metterci dentro e ho trovato questo è un maialino di più o meno 10 centimetri silver che costa purtroppo sicuramente ce ne saranno dei meno costosi fatti comunque bene su ebay in italia non si trovano almeno quello che ho visto io e questo costa 7 euro l'uno perché sono 4 più 3 di spedizione quindi così allora ho pensato al maialino e mi sono andato a vedere delle compagnie delle attività che vendono cartoni così tanto per dare una stima di quello che spendiamo e questo questi cartoni 50 pezzi minimo sono 18 euro per un totale di 7 euro e 36 a cliente ora tutti i fissati che stanno lì con il volante di ingrandimento mi diranno eh sì ma non metti insieme non calcoli l'elettricità il gas la laniccia da mettere dentro per evitare che va a destra e a sinistra il porcellino la pagliuzza per farlo sentire caldo e la pagliuzza che ci fumiamo noi allora ho detto ok non sono 7,36 sono 10 euro che spendiamo a cliente con un budget ricordiamo di 60 euro quindi stiamo al di sotto del budget a questo punto bisogna monitorare questo pacco che gli mandiamo ricordate che tutti mandano email al massimo una lettera noi mandiamo qualcosa di differente e quando gli arriva dice ma che cacchio è una bomba ma come monitoriamo il processo come capiamo se lo apre o meno gli mandiamo ovviamente una lettera che non è anonima gli mandiamo una lettera per presentarci a chi la mandiamo la lettera ecco dove arriva il lavoro bisogna alzare il culo qua bisogna trovare una persona precisa come si va sul sito dell'albergo si capisce chi è il manager chi prende le decisioni e se non c'è nessuno si chiama l'albergo questo è direct marketing e si chiede salve sono Roberto avrei un un pacco da recapitare la persona che prende le decisioni nell'albergo non è un pacco bomba ma è una dimostrazione di un servizio a cui lui sarà abbastanza interessato bisogna avere una persona precisa niente a chi di dovere caro manager niente io la strapperai subito mi terrei il maialino chiarire subito il problema principale caro mister chiunque come lei ben sa l'overbooking può essere un problema overbooking vuol dire perdere i soldi io se mi da sto inventando un minuto della sua vita posso fargli vedere in pochi secondi come salvare tutti quei soldi persi nell'overbooking direttamente nel porcellino e gli assicuro che quel maiale non sarà abbastanza per mettere da parte tutti i soldi come? con la soluzione una soluzione che non importa se è un software se è una segretaria se è un sito se è un ipad non importa ancora non ci stiamo la soluzione è qualcosa che farà finire il problema dell'overbooking quindi la nostra soluzione se mi da quei 60 secondi della sua vita io glielo dimostro come? con un call to action che sarà un link non un link o qualsiasi un link al nostro sito con uno url personalizzato con il nome dell'hotel che andiamo a beccare quindi il momento in cui apre la lettera si troverà dentro un link personalizzato non un link in generale perché se vogliamo capire chi è dei vari hotel che contattiamo che apre la lettera a questo punto come che analizziamo? analizzare è importante ci sono vari modi noi prendiamo il nostro amo che è il link dentro perché tanto sono sicuro che il 90% delle persone aprano o almeno scuotano il box e quindi una volta cliccato sul link o tantomeno per vedere se ha cliccato sul link utilizziamo sicuramente Google Analytics per vedere tutte le varie i vari numeri aiutato da Pretty Link che è un un plugin per WordPress ci dovrebbe essere la versione gratis sicuramente quella a pagamento che dà la possibilità di creare redirect ma la cosa buona è che di questi redirect possiamo avere le statistiche molto semplice vale la pena investire oppure alternativa a gratis Bitly che è uno short end service che praticamente prende il vostro link mettiamo caso mybooking.it slash presentazione e lo fa diventare bitly bit.ly slash un qualcosa di personalizzato ovviamente non è proprio professionale perché sarebbe meglio avere il vostro sito però è un modo facile e veloce e gratis per analizzare i link se sono cliccati da quanti sono cliccati se li sono salvati come bookmark eccetera eccetera a questo punto una volta presi tutti i numeri bisogna arrivare a capire cosa far vedere all'albergatore una volta che clicca ma quando clicca ci vuole una landing page personalizzata non lo fate andare sul vostro sito sulla home page non lo fate andare su una minchia di pagina che spiega il prodotto e basta tra le varie cose no ci vuole una landing page per convertire una landing page che ha un video sicuramente un video dove ci siete voi magari che spiegate e una serie di step per convincere il cold prospect e quindi l'albergatore come con una demo quindi abbiamo detto grazie di aver dato la possibilità a me e alla mia compagnia di farvi vedere come funziona papapapa rinforzare i benefici come con i testimonian nel video nella stessa pagina mettere anche dei video testimonia con gli indirizzi di cordone che l'ho detto prima dei vari altri albergatori e soprattutto a parte i testimonian utilizzati ci vuole un altro call to action che è simile a quello della foto non è che il brizzolato qui dentro la foto non ci abbia ragione è ovviamente strutturare in maniera differente però gli step sono questi ci vuole un call to action che io metterei molto semplice tipo se vuoi rimanere in contatto metti la tua email o il numero di telefono e ti contatterò al più presto tu lo contatti non lasciare che lui contatti te perché comunque c'ha la sua vita c'ha il suo business e sicuramente tu sei la solita scureggio nell'universo anche se è leggermente interessato alla puzza che emani però sei tu che devi andarci sotto e dire ti piace quindi lasciare un campo classico email e un bottone subito grande contattami call to action è molto importante a questo punto bisogna ottimizzare il processo non è detto che questa soluzione funziona non è detto che funziona al 100% ecco perché bisogna analizzare monitorare soprattutto ottimizzare cosa bisogna ottimizzare i dati che entrano capire quanti degli alberghi contattati hanno cliccato quanti hanno visto il video quanti ci hanno contattato e quanti invece hanno solo aperto visto la pagina e l'hanno contattato e come come lo facciamo analizziamo i dati li mettiamo insieme e prendiamo facciamo un secondo step della nostra strategia che è quello decisionale allora prendiamo il classico grafico e partiamo dall'inizio hanno cliccato il link se sì bisogna capire quanto tempo hanno speso sulla landing page hanno visto il video beh se ci hanno speso due minuti più o meno il video è di un minuto vuol dire che l'hanno visto tutto lo stesso video di suo se lo mettiamo sul vimeo che è più professionale di youtube ha delle statistiche interne vediamo quante volte l'hanno cliccato quante volte l'hanno visto se l'hanno visto tutto e soprattutto hanno preso un'azione hanno lasciato i dati se sì a quel punto la strategia è chiamare l'albergatore e prendere l'appuntamento se invece no e quindi l'azione non l'hanno presa ci vuole una follow up letter quindi una lettera che mandiamo non più un pacco ci vuole una lettera sempre ricordiamoci una lettera speciale magari se il maialino è rosa la mandiamo rosa con un bel maialino in basso a sinistra che dice hey albergatore ho visto che sei andato sulla landing page che hai guardato il video ti è piaciuto spero che tu abbia apprezzato le varie caratteristiche del sistema se vuoi una demo di persona sono a disposizione non spingere troppo perché alla fine se non è interessato non è interessato però potrebbe essere interessato ma non ha tempo ecco perché magari non ha chiamato ecco perché la follow up letter versione 2 perché c'è anche una versione 1 quale? quella nel caso il link non è stato cliccato quindi se non ha cliccato il link gli mandiamo una follow up letter quindi una lettera dopo che ne so una settimana e dire spero ti sia piaciuto il regalo ho notato che non hai visto il video all'interno però sono sicuro che sarai interessato a salvare dei soldi a che ne so migliorare il tuo sistema e posso fartelo vedere tramite questo link e gli ridai il link del video a questo punto sempre con una grande bella email magari rosa se con la follow up mail che contiene ancora lo stesso link magari un link che dice non lo so link versione 2 almeno capisci quale i due link ha visto se il link della prima lettera o il link della seconda se poi prende l'azione a quel punto si arriva all'appuntamento se invece no si va alla follow up letter 2 dicendo seguita dalla mia dopo aver scritto non lo so invento la prima lettera le riscrivo dopo un mese due settimane vediamo anche lì è importante analizzare i dati per ricordarle questa cosa qui magari abbiamo un'offerta del primo mese e non paga eccetera eccetera perché sono sicuro del mio sistema e di come questo software possa migliorare il suo business ok questa è più o meno la strategia che bisogna portare avanti anche qui ripetere 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 bisogna ripetere tutto quello che facciamo analizzare vedere dove ci sono dei bug nella strategia capire cosa funziona più di altre cose e questa è l'unica soluzione per ottimizzare il processo la domanda che sorge spontanea è ma quante volte bisogna ripetere fino a quando non ci mandano a fanculo no in realtà analizzando questo tipo di business ma in generale qualsiasi business che utilizzi un direct marketing una strategia di posta inviata proporrei la seguente riflessione se mandiamo il pacco lo mandiamo con un massimo due lettere in base alle analisi che arrivano dai dati quindi mandiamo il pacco mandiamo una follow up letter e ne mandiamo magari un'altra ancora o se il pacco non è aperto magari ne mandiamo due massimo tre però quello è non si sfugge anche perché se non è interessato non è interessato altrimenti avrebbe già chiamato può darsi ci sono distrazioni meeting cose varie però se uno non è interessato non è interessato la stessa versione della strategia non va sparata al cento per cento dei prospects allora se abbiamo preso tutti i dettagli di cento hotel non spariamo la versione uno a tutti e cento non è detto che funzioni facciamo dello split test allora prendiamo magari la versione uno di questa campagna e lo mandiamo a due clienti poi cambiamo qualcosa magari la versione dentro della lettera e la chiamiamo versione uno punto uno e la mandiamo a altri due clienti per vedere quale delle due versioni ha suscitato più interesse non cambiamo troppe cose nello split test altrimenti non sappiamo qual è ha funzionato se non siamo sicuri del titolo cambiamo solo il titolo e lasciamo tutto il resto uguale poi creiamo altre versioni la due la tre fino a quando non siamo sicuri che funzioni perché la strategia di per sé funziona va solo ottimizzata relativamente a quello che abbiamo davanti al tipo di business che abbiamo davanti quindi non lasciamo che due risultati tre risultati ci buttino giù non è una sconfitta ok due risultati tre risultati sono un niente ci vogliono molti più numeri così come quando si fa google adwords o facebook advertisement si parla di almeno mille duemila tre mila impressioni per vedere se c'è un click quelle mille duemila impressioni non sono certo due risultati di box mandati però se mandiamo il pacco almeno mandiamone 10 15 per capire se funziona o meno e anche lì bisogna ricordarci di analizzare e migliorare siamo giunti alla conclusione e quello mi sento di dire a roberto e a tutti quelli che alla fine decidono sul direct marketing ci potrebbero essere altre soluzioni c'è google adwords seo abbiamo detto facebook adwords però forse questa qui potrebbe essere quella che ha più chance di riuscita perché alla fine se si pensa ad un albergo è un tipo di business che riceverà sicuramente un sacco di mail e quindi c'è la percentuale molto alta di possibilità che la tua vada cestinata quindi tra un email e un qualcosa di concreto con un pacco e un maiale dentro sicuramente l'attenzione perché lì che bisogna partire dall'attenzione il pacco la tira di più un pacco che va scartato che non capita tutti i giorni in un albergo a parte i pacchi per la cartigenia comunque questo è un pacco destinato al manager e a meno che non ha a che fare con la mafia un pacco non se lo aspetta quindi questa è una delle varie strategie che io da cui io partirei per ogni tipo di business soprattutto su quelli ancora brick and mortar quelli vecchio stile offline non è veramente male ci vuole un po' di budget questo è ovvio però è anche vero che se siamo sicuri che il lifetime value del customer è alto quindi il ritorno economico di un cliente acquisito è molto alto possiamo spenderli quei 10-20 euro a cliente immaginiamo anche un avvocato per i quali servizi noi spendiamo almeno in inghilterra 10.000 pound quindi 12.000 euro beh un qualcosa del genere forse funziona così come funziona google adwords però google adwords per quanto riguarda gli avvocati soprattutto i penalisti sono 120 euro a click quindi cosa vuol dire che è sicuramente molto competitivo è che di click prima che una persona va a fare una richiesta di appuntamento eccetera ce ne passano e quindi a 120 euro a click forse anche l'avvocato potrebbe provare a beccare dei clienti magari delle persone con un tipo di business mirato con del direct marketing e della lompimeo bene siamo arrivati alla fine è stata una bella esperienza sono anche a tratti emozionato e vi ricordo che espresso triplo.com è l'indirizzo del blog per quanto riguarda invece gli stalkers mi potete seguire su facebook cercando espresso triplo e su twitter cercando il mio indirizzo angelo cme grazie di avermi seguito fino adesso spero che vi iscriviate alla newsletter di espresso triplo.com dove snocciolo tips suggerimenti e tecniche per migliorare il marketing dei vari business sia online che offline e potete anche iscrivervi visto che ci siete costa solo un click alla pagina di facebook e al canale su youtube da angelo bandizio ciao e alla prossima